Ebbene ragazzi, di nuovo ben ritrovati, terzo video di questo sabato di partita della Lazio Io sono Manuel, questo è il canale Forza Lazio, partiamo con la nostra intro Ben trovati ragazzi, ben trovati a tutti voi Vi ricordo che in descrizione a tutti i video trovate tutte le informazioni riguardanti il canale Forza Lazio Vi avevo promesso 4 video anche nella giornata della partita, quando in realtà avrei potuto onestamente riposarmi in vista della telecronaca Ma non ce la faccio, lo sapete com'è, finché riesco vi garantirò anche a un solo telespettatore, questo non mi interessa Almeno 4 contributi al giorno, poi chiaramente arriveranno sicuramente in periodi più intensi dell'anno In cui non riuscirò a tenere questo ritmo, insomma sono sicuro che voi comprenderete Questa rubrica per ora, devo dire la verità, è molto sottovalutata da voi Ma ci può stare, perché rappresenta qualcosa di nuovo, quindi ci può stare Però sono sicuro che col tempo, col passare delle settimane, comunque prenderà piede Io di questo sono convinto, perché? Perché alla fine una giocatina ce la facciamo tutti Non diciamo stupidaggi, siamo in pochi a non farla o a resistere a questa forte tentazione Senza esagerare, però una giocatina con la speranza di acchiappare la giornata giusta ci sta E quindi nell'ottica di questo, un confronto tra me e voi e viceversa Nell'ottica di tirare su la miglior giocata possibile, ci può e ci deve anche stare Detto ciò, proprio in questa ottica, questo è il video dei pronostici di questa giornata Che si appresta ad iniziare, vi ricordo che sarà una giornata di campionato Che inizierà proprio con la Lazio, tra poche ore allo stadio olimpico di Torino Allo Juventus Stadium, dove praticamente la Lazio darà il via a questa quarta giornata di campionato E chiaramente vi ricordo che la nostra diretta è già programmata Quindi ragazzi non vi resta che attivare la notifica su quel link là Su quella diretta lì che trovate appunto nel nostro canale YouTube Detto ciò andiamo a dare una bella occhiata a quelle che potrebbero essere Le probabili formazioni di questa quarta giornata E da lì a tirare fuori un nostro pronostico Direi proprio di partire Salve ragazzi alla partita che darà il via a questa giornata Alle ore 15 il big match che riguarda da noi da vicino Juventus-Lazio E il 3-5-2 della Juve contro il 4-3-3 della Lazio Andiamo a vedere subito in casa Juve quali sono le novità Nei bianconeri sono recuperati chiese e gatti Il primo dovrebbe far coppia in attacco con Vlaovic Mentre il secondo si gioca una maglia con Alex Sandro Per completare il terzetto di difesa con Bremer e Danilo Dinanzi ai pali di Cesni In regia Locatelli sarà coadjuvato da Fagioli e Rabbiò Sulle fasce a Leghi potrebbe rilanciare McCennie A destra e puntare su Kostic Più di Cambiaso a sinistra In tal caso panchina iniziale per UEA Andiamo a vedere in casa Lazio I dubbi di formazione di mister Sarri sono a centro campo Ghendosì e Rovella cercano posto Rischiano allora Camata e Cataldi Mentre rimane certo del posto Luis Alberto Tra i pali ci sarà Provedella La difesa poi sarà diretta da Romagnoli Con al fianco Casale Terzini aggiranno Marusi C'è recuperato Iusai Avanti diridente formato da Anderson Immobile e Zaccagni Allora ragazzi io ripeto Mettendo da parte la scaramanzia Vorrei giocare questa partita per vincere Come ho detto in maniera chiara anche nei video precedenti E quindi diciamo che la mia La logica mi porterebbe a dire X Però ragazzi miei io Sapete che vi dico? Io dico due Vittoria della Lazio E andiamo a Inter Milan ragazzi Il derby delle 18 A causa delle coppe Purtroppo anticipare le 18 del derby è davvero un gran peccato Ma non si può fare diversamente Andiamo a vedere cosa accade in casa Inter Nei razzurri che possono contare su ristabilita Cerbi Sorpasso su De Frey per sistemarsi al centro del terzetto di difesa Accompagnato da Darmian e Bastoni In porta Sommer Sulle fasce ci saranno Danfris e Di Marco Solo panchina per quadrato condizionato da una lieve tendinile In mezzo al campo spazio a Barella e Cialanoglu Poi ultima maglia dove c'è in punto una competizione tra Mkhitary e Nefrattesi In avanti Turam e Martinez con Arnavic pronto a subentrare In casa Milan nell'attacco rosso-nero non mancherà Giroud Ristabilito da un fastidio alla caviglia accusato e nazionale Il titente sarà poi completato da Pulisic e Leao Partenza invece dalla panchina per Cucu Eze Il regia si sistemerà a Krunic con ai lati Loftusic e Reinders Squalificato Tomori al centro della retroguardia torna Kier con Ciù 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 come si chiamano Terzini e Girano Calabria Teo Hernandez in porta Mai Nian Allora ragazzi Andiamo a vedere un attimo la formazione Queste sono le due formazioni Io pure qui andrò Forse vado in contro tendenza Ma io qui dico vittoria del Milan 2 Andiamo poi a vedere invece Genoa-Napoli Mi interessano piccato le novità in casa Napoli Vediamo un attimo Ha ciaccato Politano ma è partito per Genoa Nel titente d'attacco Saga una votazione di Raspadori A dispetto di quelle di Lindstrom Per partire con l'inizio insieme a Kvaraskei e Osiman In mezzo al campo ci sarà Lobokta Con ai lati Anghisè e Zielischi In difesa Nathan Insidia Al centro Juan Jesus Ragazzi qua insomma Il Napoli dopo aver perso contro la Lazio Vado a giocarmi il terzo due consecutivo Andiamo a vedere Cagliari-Udinese Gara in programma domani alle 12.30 Qui dobbiamo andare a leggere bene le informazioni Nei Sardi è in dubbio Petagna Per noi gli muscolari in attacco può rivedersi Dal primo minuto è ristabilito Pavoletti In coppia con Lubumbo Stingerà i denti sulle mana Mister Lagneri lo ha ritrovato in gruppo da mercoledì Smaltito un affaticamento E dovrebbe schierarlo in mezzo al campo Con Macombu Mentre esterni aggirano Nandez e Ianto In difesa Vietesca Verso la conferma con Dosseno A Tersini si sistemeranno Zappa E Ogello con in porta Radunovic Nell'Udinese l'infermeria rimane piena Si è aggiunto anche Davis Vister Sottile in attacco Dovrebbe rinnovare la fiducia a Lucca In coppia con Toven Dalla panchina Sasses Convocabile Pereira Ma dal primo minuto in mediana ci saranno Samarzic, Wallace e Lovic Corsie esterne occupate da Ferreira e Camarà Che restano favoriti nei rispettivi ballottaggi Con Ebbosele e Zemmura Difesa diretta da Biol Con ai lati Perez e Cabasele In porta Silvestri Indisponibili Rog e Lapadula per il Cagliari Padelli, Ebosse, Masina, Zibue Deulofeu, Brenner e Davis Per l'Udinese Che ragazzi c'è una situazione incredibile Ma qua mi vado a giocare Un bel pareggio E andiamo a quella che secondo me Sarà un'interessantissima Frosinone Sassuolo In programma domani alle 15 Andiamo un attivino a vedere il Frosinone Nei giallazzurri Il mister Di Francesco Conferma sull'Enel Tridente con Credira E caso E' infatti acciaccato a Rui Per un problema al piede Spazio a centro cappa Per il stabilito Gelli e Mazzitelli Ai lati del regista Berencea In difesa Oiono E Marchizza sugli esterni Nel centro di Cisarano Romagnoli e Monterisi In porta Durati Andiamo un po' a vedere il Sassuolo Nelle fila dei Neroverdi E' vivo il duello Tordvers-Bairami Per il ruolo di trequartista Esterni d'attacco Agiranno Berardi e Laurentè Per innescare la punta Pinamonti Dica mediana Formata da Bologa E Mataus Enrique Sulla sinistra In difesa Vigna Rimane tallonato Da Pedersen In porta Consigli Vediamo un po' Qua vedo Un altro pareggio Ero tentato da mettere l'uno Del Frosinone Vi dico la verità Però metto il pareggio Andiamo a Monza Lecce Gara in programma domani All'ora e quindici Vediamo un pochino Nel Monza Cerca posto Colombo In attacco Ma viva la concorrenza Di Mota A sostegno ci saranno Colpani e Caprari Sulla fascia Binindelli Può spuntarla ancora Su Chiriacopoulos Dal lato opposto Confermato Ciurria In mediana Cagliardini Al fianco di Pessina In difesa Spazio per Caldirola Dall'inizio Conizio e Mari In porta di Gregorio Nel Lecce Non preoccupano Le condizioni Di Christovic E è pienamente Recuperato Dopo gli acciacchi In nazionale La punta Guiderà il tridente Poi si giocano Due maglie Banda Olquist e Strefezza Con quest'ultimo Che rischia Una nuova panchina Metronomo Di centrocampo Sarara Matanico Adiuato Darafia E Caba In difesa Baschirotto E Pongracic Al centro Tersini Sistemeranno Condrei E Gallo Qua Monza Lecce Vado a giocarmi Il primo Uno Della giornata E andiamo A un'altra gara Molto interessante Domani sera Sempre alle 18 Fiorentina Atalanta Ragazzi Questa è molto interessante In casa viola Misteri Italiano Punterà su un Zolano Attacco sostenuto Da Gonzales E Sottile Sugli esterni L'argentino Infatti è tornato Mercoledì a Firenze Dopo gli impegni nazionali Ma il tecnico Non dovrebbe rinunciarci Dal primo minuto In campionato Trequartista Sarà Buonaventura Comandraco Red Arthur A coprirgli le spalle Squalificato Maximo Lopez Al centro Della difesa Ragnelli Con Milenkovic E box Infatti Mina Sulla destra Dodò Insicchiato Da Cagliote Mentre Antaneratea Viaggia verso la conferma De Catellare Dal primo minuto Insieme a Copminers La punta sarà Scamacca Panchina dunque Per Lucman Pronta a subentrare In mediana Derun Ed Ederson Fasce presidiate Da Zappacosta E Ruggeri E recuperato Toloi Si gioca una maglia Dietro con Jim City Per completare La linea Con Scalvini E Colasina Ci importa Musso Ragazzi Questa è una partita bella Andassi a giocare Una scommessa Mi giocherei il gol Ossia che segnano Entrambe le squadre In questo caso Mi vado a giocare La vittoria Della Fiorentina E andiamo Alla gara Dello Stadio Olimpico Tra Roma Ed Empoli Gara in programma Domani alle 20.45 Vediamo un pochino Nei giallorossi Tengono banco Le condizioni Di Mancini E Pellegrini Rientrati Accecati Dalla Nazionale Difesa È pronto Ondica A esordire Dal primo minuto In campionato Mentre al centrocampo Occasione In arrivo Per Bove Così da completare Il reparto conquistante E Auar Fasce presidiate da Christensen e Zaleschi Ma evviva la concorrenza Di Selic a destra E Spinazzola a sinistra Avanti Il mister Monigno Fa scaldare i motori Al tandem Di Bala Lukaku Empoli Nei Toscani Il mister Zanetti Cercano conferma Beresischi E Pezzella A svantaggio Di Eboici E Cacace Tra i pali Ancora Beriscia Beh ragazzi Qua i pronostici Portano A una vittoria Della Roma Sarà Sofferta Sarà Sofferta Ma vincerà La Roma E andiamo A Salernitana Torino Ragazzi Vediamo la verità Salernitana Torino Per quanto mi riguarda Sarò un po' strano Io Qua si gioca lunedì Alle 18 Per quanto Mi riguarda Ragazzi Vi dico la verità 18.30 Lunedì Io qui C'ho una forte tentazione Di giocarmi La vittoria Della Salernitana Salernitana Che Quindi Mi interessa solo Dare un'occhiata Rapidamente Alla Dia Infortunato C'è il problema Di Dia Che manca Indisponibili Danili Ucce Nella Salernitana Maggiore Dia Popa DG Voivota Che non gioca Sentite ragazzi Io qui confermo La mia forte sensazione E io Qui Mi vado a giocare La vittoria Dei padroni di casa Chiude questa quarta giornata Di campionato Verona Bologna 20.45 Lunedì Appunto Il Verona in casa Gioca benissimo Il Bologna Non è da meno Ragazzi Andiamo un pochino A vedere La situazione Nel Verona Negli scaligieri Sono recuperati Ongla Lazvic E Saponare Il primo Dove essere impiegato Dal più un minuto E mezzo Del campo Al fianco di Duda Mentre il serbo Agirà Da trequartista Con Bula Alle spalle Della punta Angolge Sulle fasce Si disporranno Faraone E Doig Difesa guidata Da Yen Con elati Davidoviz E Magnani In porta Montipò Nei Felsini Ce la fa il portiere Scorup Si ristabilito Da un fastidio Alla caviglia In difesa Conferma Per Christian Senna Sinistra Poi linea Completata Da Poche Lucumi Lucumi E Beuchema In mediana Moro Con Freuler Panchina Per Fabian Tornato da mercoledì In gruppo Avanti Zizxi Sostenuto Da Fergus E poi sulle ali Offensive Dovrebbero essere scelti Orsolini E Carson Dall'inizio Anche se la concorrenza Tendo ieri Rimane viva Bella partita Questa Mi incuriosisce Qua mi gioco La vittoria Del Bologna Quindi ragazzi Andando a Appunto A Fare un riepilogo Di quella che è Secondo me E quelle che sono Secondo me Pronostici Di questa giornata Di Campionato Vi dico Juve Lazio 2 Inter Milan 2 Genoa Napoli 2 Caglia Riudinese X Frosinone Sassuolo X Monza Lecce 1 Fiorentina Atalanta 1 Roma Empoli 1 Salernitana Torino 1 Verona Bologna 2 Fatemi sapere cosa ne pensate Nei commenti E vi do appuntamento Tra due ore Per la diretta Di Juventus Lazio Live già programmata Vi mando un abbraccio a tutti Buon proseguimento di giornata A tutti voi Ciao